Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Scusatemi perché sto tenendo il cavalletto con il telefonino con le mani perché è così grande questo spettacolo di nuova collezione che è uscita oggi nell'edicole che non riuscivo ad inquadrarla diversamente lasciando appoggiato il cavalletto nel cubo box. Guardate ragazzi Starsky Hach bellissimo la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hach è un'edizione della Shette sono 120 uscite in scala 1 a 8 guardate quanto materiale c'è nella prima uscita è ovvio viene fatto per incentivare l'acquisto perché ci dà la possibilità di in questo caso se non sbaglio perché ovviamente io ancora come vedete non l'ho aperto di completare forse il musetto almeno in parte non lo so adesso comunque andiamo a vedere costa 50 centesimi e scusatemi anche se non c'entra con questo per chi fosse interessato Ironman sappiate che l'altro ieri se non sbaglio due giorni fa è uscito nuovamente il numero 1 di Ironman con il casco a 1 euro ragazzi se andate a prenderlo se lo trovate ancora perché è bellissimo chiedo scusa per questa piccola parentesi allora adesso appoggiamo il nostro bel cavalletto qua sul cubo box vedete non riesco a prendere tutto così voilà ok allora ragazzi andiamo subito ad aprire vediamo cosa c'è in questo primo numero allora cercherò di farvi vedere un po' tutto ragazzi sapete come sono fatto io per chi mi segue e ricordatevi anche ragazzi se avete piacere di iscrivervi al mio canale perché sto crescendo e ovviamente lo devo grazie a voi ragazzi grazie a voi grazie veramente di cuore allora questi sono dei miei tempi ragazzi che ricordi bellissimi allora questo è quello che troverete sotto la plastica dove ci sono i pezzi allora qui ci dice aspettate prima vi faccio vedere una panoramica per quanto possibile di tutto così potete anche leggere per chi è interessato quelle che sono i contenuti faccio leggere ragazzi sposto chiudo scusa così riesco a fare farvi leggere bene guardate che dimensioni bellissima e l'ultimo ecco qui voilà allora ve l'ho fatto leggere però allora leggiamo un po' la serie poliziesca degli anni settanta starsky acce ebbe un successo straordinario all'epoca del lancio imprimendosi nella memoria di un'intera generazione la serie televisiva racconta le appassionanti vicende di una copia di poliziotti david starsky e kenneth atkinson ok va bene ragazzi me la cavo a malappena con l'italiano quindi vi chiedo scusa detto acce la loro auto di servizio in codice zebra 3 è una splendida for gran torino rossa resa inconfondibile da una vistosa banda bianca una vettura che li accompagna in ogni puntata tra inseguimenti sgommata e testa coda e che grazie anche all'unicità delle sue finiture viene ben presto identificata dal pubblico come il terzo protagonista della serie ragazzi qua il solito discorso io li farei tutti vediamo ragazzi perché mi piace davvero tanto anche questa mi piace mi piace davvero fedele riproduzione dell'auto di starsky acce fin nei minimi dettagli portiere finestrini cofoni bagagliaio apribili qua vedo anche la ruota di scorta il lampeggiante speriamo che funzioni qua non ci dice che funziona non lo so allora come vi ho già detto il titolare diciamo di questa nuova collezione è Hachette la collezione è composta da come è scritto qua 120 uscite la prima come sapete ormai è 50 centesimi la seconda uscita 5,99 e il prezzo delle altre successive uscite è 10,99 euro ok ragazzi salvo chiaramente le aliquote fiscali le variazioni quindi io per carità vi consiglierei poi ognuno ovviamente fa quello che vuole vi consiglierei di farlo tramite abbonamento io vedrò se qua è previsto tipo la di Agostini il premio non lo so perché lo sto guardando adesso per la prima volta a parte quando l'ho acquistato non ho letto e non ho visto nulla vediamo allora cosa ci dice qua il modello nel dettaglio la scala ovviamente è 1 a 8 come abbiamo già detto la lunghezza è 67,8 cm circa la larghezza è 25,3 cm circa e l'altezza è 17,7 cm il materiale è un diecast metallo pressofuso e materiali plastici motore perfetto in tutti i dettagli con il rombo azionabile grazie a un pulsante sul cruscotto addirittura abbiamo la luce interna della plafoniera se non sbaglio vediamo sorprendenti effetti luminosi accensione dei fari anteriori delle luci degli stop della plafoniera interna e del cruscotto bellissimo tra due settimane l'edicola la seconda uscita fa ciclo più componenti per il montaggio del paraurte della fiaccata anteriore sinistra questa come abbiamo detto invece di 10,99 5,99 6 euro in meno e beh ragazzi per chi ama questo genere io ve lo consiglio poi voi direte allora Michele tu lo fai beh io vi posso dire che lo farei ben volentieri e mi auguro di poterlo fare mi seguirete magari ma ho intenzione di farlo il discorso è sempre lo stesso ragazzi è sempre un fatto di soldi io sto facendo già tre Ironman mi piace anche la Citroen 2 cavalli della De Agostini e mi piace tantissimo questa perché perché l'associo a quando ero giovane io io ho 55 anni il prossimo mese quindi a settembre il 12 settembre faccio gli anni ragazzi fatemi un ben copriano iscrivetevi tutti grazie allora andiamo a vedere qui cosa ci dice prima pagina dei servizi vediamo un po' servizio cliente allora per non perdere neanche un'uscita gentile lettore per l'acquisto delle prossime uscite le invitiamo a rivolgersi sempre alla medesima edicola per chi volesse fare chiaramente l'acquisto in edicola allora qui ecco ragazzi qui non ve lo leggo ve lo faccio vedere a voi perché così per chi fosse interessato sa tutto abbiamo già detto che sono 120 uscite guardate ok qui scorriamo abbastanza velocemente ragazzi eh perché non voglio fare video tanto poi alla fine li faccio sempre lunghi allora ok ok vediamo un po' Michele quello che sposta sempre l'immagine eh ce la farò un giorno forse ragazzi allora c'è il biondo a sinistra ovviamente Starsky il bruno a destra e beh faccio vedere un po' cosa c'è scritto per chi volesse leggere questa è una cosa carina mi ha corrigito il punto interrogativo infatti non lo so qua ci dito lo sapevi l'edizione limitata ford ps 122 nel 1976 visto il successo mondiale della serie televisiva la ford lanciò un modello speciale per l'ultimo anno di produzione della sua gran torino sport la Starsky Hatch codice ps 122 un'edizione limitata di sole mille unità più due prototipi di preserie uno di questi esemplari è stato poi utilizzato nel 2004 per le riprese del film ispirato alla serie televisiva diretto da Todd Phillips interpretato dagli attori Ben Stiller Starsky e Owen Wilson Hatch e beh mille unità ragazzi allora continuiamo a inquadrare la lettura se vi interessa leggere se no ragazzi non me ne vogliate scorrete scorrete avanti il video eh che bello che bello che bello è ovvio che colpisce molto di più quelli che l'hanno vissuto questo periodo io lo capisco perfettamente come tutte le cose però è veramente un'auto storica bellissima allora vediamo cosa ci dice qua il tuo modello è la fedele riproduzione della vettura utilizzata per girare alcuni episodi della seconda stagione della serie si tratta di una delle sei Ford Gran Torino Sport che sono state complessivamente utilizzate nel corso delle quattro stagioni di Starsky Hatch ah non ne hanno utilizzate sei ne hanno utilizzate va bene qui abbiamo scusate stavo leggendo qua cosa c'è scritto il giro faro modello FB H11 dove FB sta per Fireball ossia palla di fuoco può avere la calotta sia di colore arancio sia blu ah meno male così poi non ci saranno molti che diranno no era blu e invece altri che diranno no può essere anche rossa qui c'è scritto che può essere sia rosso che blu i retrovisori in tinta con la caratteria sono stati tra gli elementi distintivi della gamma sport della Ford Gran Torino curiosamente la vettura utilizzata nell'episodio pilota aveva invece i retrovisori cromati chiedo scusa quindi ecco non erano così rossi vabbè lo stato della California così come quello del Texas o del Nevada richiede che le auto destinate al trasporto di persone siano adottate di doppia targa una davanti e una dietro come in Italia in altri stati come per esempio la Florida o l'Indiana è obbligatoria la sola targa posteriore questo non lo sapevo poi qui si è stato George Barris responsabile per gli effetti chiedo scusa per gli oggetti della scena della produzione ideare la famosa striscia bianca con un sottile filo nero di contorno che caratterizza Zebra 3 tale elemento poi disegnato graficamente da George Grenier ha quindi ispirato a Acil il simpatico nomignolo di pomodoro a strisce dedicato all'auto del collega poi va bene ragazzi qui vi faccio leggere a voi perché tanto faccio prima così e se volete leggere leggete qua ci sono le caratteristiche aspettate ragazzi perché c'è il foglio che tocca il cavalletto facciamo così abbiate pazienza sotto discorso chi non volesse vedere porta avanti tutto stavo guardando che ecco cos'è quello che c'è nella plastica adesso poi andiamo a vederlo il modello sport della gamma è caratterizzato da uno stemma della casa posizionato lateralmente sulla grida della calandra che bello sto modello mi piace mi piace poi facciamo così va e qui ragazzi c'è tutta la storia un po' eh volevo farvela dare la possibilità a chi non lo acquista e fosse interessato di poterla leggere tutto qui ragazzi questo è anche una cosa come prima lo sapevi e non so neanche questo sicuramente vi do la possibilità di leggerlo per chi ripeto lo volesse fare che belle queste riviste che belle la storicità dell'oggetto bellissima bellissima ho adottato una nuova cosa mi è venuta in mente così tengo con le mani il telefonino e buonanotte ragazzi speriamo che non venga così orribile questo video qua ci dice ma questo lo possiamo vedere dopo molto velocemente lo vedremo dopo ci dice chiaramente come vanno montati i primi componenti oh ma qua ce n'è ragazzi qua ce n'è mi sa che devo fare diverse e sarà anche meglio diverse pause per non annoiarvi anche perché ripeto ce n'è qua da montare vediamo come gestire questo video ok ti metti a fuoco grazie perfetto via questo allora offerta speciale per gli abbonati scegliendo il pagamento con la debito ricorrente su carta di credito avrai le spese di spedizione gratis per ogni invio e riceverai gratuitamente con il primo invio la t-shirt personalizzata star schiace che bello più tutti gli altri fantastici regali ecco qua ragazzi quadro bene così vedete tutto allora eccoli qua i fantastici regali abbiamo un pratico kit di cacciaviti con 36 differenti punte l'indispensabile raccoglitore per custodire i fascicoli la targa della for gran torino di star schiace questa è bella ragazzi anche questa è bella con il secondo invio questo mentre questo e questo con il primo invio lo so c'è scritto abbiate pazienza ah con il quarto invio addirittura danno il cofanetto con i 5 dvd della prima stagione di star schiace in regalo eh ragazzi e la maglietta con il primo invio bello bello sono molto molto tentato ragazzi poi mi domandate lo fai non lo fai questo è un poster mamma mia come lo riprendo questo ragazzi aspettate perché prima di questo ho visto che ce n'è un altro qua da vedere cos'è qua ci dice le prossime uscite uscita 2 abbiamo detto prima fascicolo più componenti per il montaggio del paraurte della francata anteriore sinistra tutto in metallo penso che questa sicuramente come ho già visto o intravisto dalla plastica trasparente che è metallo anche questo qua ovviamente la carrozzeria poi questo leggete voi ragazzi e questo anche io vi inquadro tutto facciamo prima e io parlo 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 e poi vado a correggere i video e ci metto sei anni a correggerli così devo imparare a fare i video muto ecco così non devo correggerne nulla ragazzi e non devo neanche mettere i sottotitoli poi eh via questa è la parte questo è un grosso poster almeno visto comunque guardiamo un po' questo è un po' quello che abbiamo già detto dietro prima anzi un po' è la stessa cosa quindi andiamo ad aprire se non mi cade il telefono e vediamo cosa c'è qui eh ragazzi qua è grande non ce la faccio inquadrare tutto io avete pazienza vabbè questo è il contenuto dei fascicoli interni che abbiamo visto prima mamma mia ma qua abbiamo un poster ragazzi presumo siamo veramente un bel poster eh ma ragazzi ma dai ma con 50 centesimi ma cosa ci danno ragazzi sì sì la prima uscita ma guardate che cosa è questo poster mamma mia che bello aspettate come lo inquadro questo aspettate ragazzi aspettate mamma mia che bello ragazzi io questo poster metto in pausa ve lo devo misurare allora ragazzi ma guardate guardate che cos'è questo poster guardate che cos'è questo poster per gli amanti del genere che meraviglia ragazzi ma che meraviglia è adesso metto in pausa prendo il metro perché voglio misurarlo sì aspettate ragazzi faccio un'inquadratura se riesco decente volevo inquadrare bene e beh passate passate ma dai ragazzi sto cercando di fare almeno peggio ok metto pausa eccoci qua ragazzi allora il poster è alto 86 centimetri per 56 centimetri e mezzo bellissimo ragazzi ma che cos'è questo poster ma che cos'è questo poster ma 50 centesimi ragazzi io ho comprato tra le prime uscite mi sono svenato 1 euro e 50 ragazzi adesso poi c'è il cacciavite dentro per carità non è che stiamo parlando di cacciavite ma questo poster ragazzi ma quanto vale già questo poster dai allora andiamo un po' a vedere cos'è questo vabbè quadro poi qua sono tutti i numeri disponibili aspettate che metto a fuoco ok ok allora via questo via questo e dopo soltanto vento minuti ragazzi siamo arrivati soltanto eh vento minuti siamo arrivati a vedere cosa c'è all'interno ecco qua ecco qua guardate sapremo tutto mi sto sciogliendo in questo cubo box è un 80x80 meraviglioso mi piace tantissimo ah penso 240 led se non sbaglio sono cotto ragazzi sto rondando allora andiamo ad aprire licenza ford ufficiale ford ovviamente ok ok allora io mi sento subito di dire una cosa per carità spero di poterlo riuscire a fare questo modello qui però vi dirò poi in seguito ragazzi mi conoscete sono molto corretto anzi sono corretto lo se non lo sei e lasciano sempre molto desidera le finiture della vernice io non capisco perché cioè e quello dovrebbero investire quanto meno di più però vabbè dai andiamo a vedere questa è plastica cromata molto carina sicuramente delicata ma una volta che montiamo quello che ci serve non la dobbiamo toccare più e poi abbiamo gli altri pezzi qui due serie tre serie di viti stavo guardando questo stemma se riesco a farvelo vedere guardate aspettate che metto fuoco non so se riesco a farvi vedere comunque c'è lo stemma quello di cui vi ho parlato prima i fari adesso andiamo a vedere ok non capisco perché mi va fuori fuori da il fuoco ma metto un momento pausa che prendo il libricino delle istruzioni ragazzi perché non vorrei veramente fare un video che già è lungo sono sempre troppo lungo ragazzi madonna allora ragazzi eccoci qua di nuovamente in diretta sono andato a prendere la pagina per ammazzare un po' i tempi dei video allora andiamo a vedere prendiamo il nostro bel cacciavite che ci ha dato qui ci dice allora per cominciare il montaggio orientiamo i pezzi come nell'immagine soprastante applichiamo a pressione lo stemma 1b lo stemma 1b è questo qui quello che ho cercato di farvi vedere prima ok allora prendiamo questo così perfetto questi sono i due fori dove va applicato e lo mettiamo con la parte chiaramente quella che ha una specie di corona qua sopra sotto e a punta lo mettiamo con la parte della corona rivolto verso l'alto ovviamente ecco l'unica cosa non spingete già forte qui ragazzi perché spezzate subito la mascherina quindi mettete l'indice in questo caso io metto il dito indice dietro e poi faccio una pressione ok non fate l'errore di vediamo se entra sembra che stia entrando non fate l'errore di ecco qua vedete se non la rompete ve lo garantisco ragazzi la rompete immediatamente invece così avete sentito clac è entrato perché non ho gravato sulle parti esterne del telaio della mascherina questa è plastica quindi mi raccomando ragazzi dito dietro e premete forte a questo punto ci dice allineiamo la griglia con la parte centrale della cornice della calandra 1c questa è la calandra 1c e questa è la 1a la griglia in modo da incastrare delicatamente i perni di 1a nei fori corrispondenti del pezzo 1c indicati qui sopra dalle linee azzurre ragazzi scusate ma io non mi sono preparato nulla fissiamo quindi la calandra con la serie di viti ap allora questa ci dice di prenderla così e di metterla così ok non vi potete sbagliare ovviamente perché a parte che come vi ho detto questa deve essere dalla parte alta dove poi c'è stato scritto Ford qua e poi abbiamo questi due pezzi questi due appendici qui una e due che entrano entro qua e dentro qua che c'è la sua scanalatura allora il consiglio sempre ragazzi che vi do agite sempre sul bordo non mettete mai al centro le dita perché può succedere se uno non ci pensa e la rompete allora prima mettiamo la parte centrale poi i laterali ragazzi perché se no fa effetto arco lo spezzate a metà quindi prima qua ok e poi qua perfetto perfetto ancora no perché deve entrare ancora nell'ultimo qua sotto quindi sempre mai al centro ma sulla non fate errore di schiacciare questo e scusate ragazzi io sono così vi dico tutto per evitare non schiacciate questo che lo rompete sempre qua e già è così non vorrei romperlo eccolo qua perfetto guardate e ci dice appunto di mettere le sei viti ap adesso io ne metterò solo una poi metto la pausa perché se no ragazzi se avevate magari intenzione di iscrivervi non vi iscrivete al canale allora io metto pausa e vado avanti così ne metto solo una sapete che io le viti le passo prima ragazzi quindi vado in questo caso voi se volete non lo fate ma io le viti me le passo prima allora abbiamo da mettere attenzione dove vanno messe vanno messe non in questo qui ma 1 2 3 4 5 e 6 questi fermaranno sicuramente i fari ok ragazzi allora quindi uno la plastica è abbastanza dolce quindi non serve passarlo non avvitatele tutte subito controllate poi davanti di nuovo che siano tutte allineate adesso blocco ragazzi e poi vi faccio vedere dopo ok allora ragazzi rieccoci una sola cosa ricordatevi sempre per aprire questi sacchetti dito pollice e indice sfregate e aprite e poi richiudete sempre perché sennò rischiate di perderle allora volevo dire una cosa ragazzi ricordatevi sempre di non ne toccare troppo la griglia perché è molto bella ma delicata una volta montata è meravigliosa non ci sono più problemi però intanto così rischiate magari di danneggiarla quindi ecco poi ragazzi vi consiglio per chi decidesse di fare questa macchina di prenderne tre o quattro primi numeri ragazzi perché alla fine secondo me sarà solo da presentare anche di fianco al modello un gadget bellissimo 50 centesimi ragazzi il poster ma di che cosa stiamo parlando ragazzi ok allora a questo punto vi stavo dicendo quando mettete le viti non spingete all'interno col cacciavite ma fate sì che la vite se la tiri da sé la plastica ok ragazzi basta mettere il pollice il dito dietro in questo caso io l'indice e senza fare pressione lui se la porta quando siete arrivati in battuta basta ragazzi non sforzate perché questo è ferro e dietro spaccate la plastica non serve controllate che tutto sia ben allineato fate questo lavoro se vedete che non c'è gioco basta ragazzi siete a posto così allora a questo punto siamo siamo qui a questo punto ci dice orientiamo la calandra 1c e fregi 1f e 1e che sono questi 1 e 2 anche questi sono in plastica cromata molto belli e 2 incastriamo a pressione il fregio 1f nell'incavo sinistro guardando l'immagine della calandra poi il fregio destro 1e nella corrispondente fenditura allora ragazzi al di là di tutto di quello che c'è scritto è importante qui abbiamo questo che ci aiuta subito qui questa parte completamente liscia di qua abbiamo la scanalatura bene molto semplice questa scanalatura va messa dalla parte alta vedete qua c'è un gradino dovete vederlo verso i fari perché va poi a completare questa linea qui dove sto inquadrando questa linea qui questo si incastra perfettamente dentro guardate un po quindi mi raccomando in questo caso è la f che va di qua però non potete sbagliarvi anche se non ci fossero le lettere perché questa questa diciamo questa linea qui che vedete che non è liscio come di qua va messa dalla parte alta lo so ragazzi ripeto tante volte le stesse cose ma almeno non vi sbagliate perché poi si fanno i pasticci ok allora prima di schiacciare lo girate dietro e guardate se l'avete inserito bene nel foro perché sennò ragazzi schiacciate lo rompete e poi fate pressione una volta sicuri ecco basta vedete che la scanalatura è andata perfettamente in linea qua stessa cosa fate dall'altra parte in questo caso è la R di qua ok lo giro vedo se sono entrati nei fori i segmenti ok allora sempre senza fare spinta sulla griglia ragazzi e ve lo ripeto anche cento volte ma attenzione perché rompete il pezzo ovviamente lo fate entrare uguale non tutto da una parte e poi tutto dall'altra uguale vedete qua fa un po fatica non devo romperlo quindi vediamo ecco qua perfetto andiamo a vederlo perfetto ragazzi allora qua comunque vi spiegano L dall'inglese left ovvero sinistra R chiaramente dall'inglese right ossia destra quindi al di là di quello comunque poi ci dice voltiamo ora la calandra ok e applichiamo scusate ragazzi devo sempre inquadrare io mi sbaglio ok e applichiamo i fendi nebbia 1g e 1h andiamo a qui potete sbagliare sia perché ci sono le lettere sia perché uno presenta un forellino per la vite e l'altro ovviamente no da una parte non c'è dall'altra sì ok ecco qua e ci dice appunto di metterli nella propria sede quindi eccoli qua perfetto guardate ecco però prima di fare questo però poi ci dice di fissarla con due viti AM andiamo a prendere le due viti AM ricordatevi sempre che per tutte le collezioni M sta per metallo lo spazio tra una riga del filetto e l'altro è molto più ravvicinato ed è contrassegnato in nero mentre invece per la plastica è P plastica ed è contrassegnato in azzurro cloro azzurro e la parte della vite anche se doveste perdere e mischiarla sappiate che tutti i filetti più larghi dove avete la linea che è molto distanziata rispetto a questi per il ferro che è più vicina sono per la plastica questi qua che sono più larghi ok ragazzi allora torniamo a noi ci dice di prendere appunto le due viti AM allora ragazzi adesso io vi spiego una cosa prenderò un po di grasso leverò di nuovo questi due ma dove erano sotto il cavalletto era il pezzo ragazzi oh ce la farò mai a fare un video senza uscire dall'inquadratura bah non ho molte speranze allora guardate ragazzi io adesso poi stopperò il video per il solito discorso di prima non voglio fare troppo lunghi ma tanto vengono lunghi lo stesso e andrò a passarmi queste viti metallo nel metallo ok ragazzi una vedete e due abbiamo detto viti AM quelle che tengono il fendinebbia perché è questo ragazzi perché se non fate questo lavoro voi sentirete una volta messa la plastica e la vite in questo foro voi avvitate 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 sentite sempre duro quando arriva alla fine battuta voi non ve ne accorgete non ve ne accorgete avvitate ancora perché sentite duro e che succede ragazzi rompete la plastica invece passando le viti così tutte e due adesso metto pausa le passo le avvito fino in fondo le tiro fuori ragazzi niente di più facile facendo così vedrete come scorre la vite poi all'interno e quando si ferma sono già in battuta e lo so allora pausa eccoci di nuovo qua ragazzi ho già tolta una adesso tolgo anche la seconda mi raccomando quando la vitate fermatevi a un millimetro dalla fine della corsa della vite perché dovete considerare lo spessore della plastica non vi fermate a due o tre millimetri perché se no non serve a niente quello che vi sto facendo fare adesso guardate io vi dico subito che già a giudicare a tutti i pezzi che ci sono ah scusatemi 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 un attimo eh allora sinistra stavo facendo un errore però eh sì eh sì eh sì eh sì stavo facendo un errore ragazzi scusate un attimo metto in pausa eh eh micheluzza è così ragazzi io cerco di spiegarvi tutto ragazzi questo per chi si è iscritto per la prima volta mi segue per la prima volta è un canale per chi conosce Michele dove non vi dirò semplicemente la vita è da qui montiamo il pezzo perché sennò in dieci minuti faccio il video quindici minuti ragazzi io cerco di spiegare tutto quello che posso per non farvi far danno è ovvio che gli esperti non mi guarderanno neanche ragazzi eh quindi cercate anche di comprendere che la durata del video è dettata anche dal fatto che io sono un canale dove non faccio il semplice montaggio ma non mi limito al semplice montaggio ma come vi ho già detto cerco di aiutarvi a non fare danno e a montare al meglio il vostro modello ok ragazzi metto un attimo pausa eh sì ragazzi stavo eh vi stavo dando un'informazione sbagliata e mettete questi cioè non è che questi li potete montare come volete ma come c'è scritto qui vedete left ovvero sinistra va montato dalla parte sinistra poi comunque basta una volta che avete montato questo andate a vedere vedete che la L è presente qui sulla plastica qua guardate che abbiamo messo prima e allora chiaramente la L andrà montata da questa parte qui ok eccoci qua e la R ovviamente da quest'altra adesso montiamo le due viti AM e guardate come si avvitano una volta passate guardate guardate qualche caccevite dove lo tengo io guardate poi provate a farlo senza passarla vedete voi come diventa duro guardate basta vedete io sono arrivato in battuta guardate con che semplicità ragazzi questa è un'informazione che vale oro ragazzi perché sapete quanti romperanno le plastiche facendo diversamente questo lavoro guardate tengo quale provate a farlo senza passarlo se riuscite a avvitarle così le viti guardate ok a questo punto poi mettete il dito qui e date un leggero ma appena appena giro basta non esagerate perché se no lo rompete basta a posto una volta che nella sua sede ok una volta che nella sua sede mamma mia ragazzi che bello avete risolto tutto voltiamo la pagina questo è uno dei sicuramente montaggi più lunghi ragazzi perché poi come sapete negli altri numeri ci danno pochi pezzi però sappiamo ormai che sono 120 uscite non è che ne veniamo sempre fuori così no ok ragazzi allora abbiamo detto qua abbiamo il fregio qui ci dice prendiamo quindi il supporto del fendinebbia sinistro 1i orientandone le linguette forate verso sinistra quindi 1i ma no 1i questo è il left non è una i una l ok allora non ci sono problemi l e r allora mettiamo questo qui lo orientiamo verso sinistra quindi ci dice così però di solito le lettere non le mettiamo al contrario sto sbagliando perché la r va da questa parte qua vedete ragazzi un'ulteriore informazione guardate le lettere non vi potete sbagliare al di là che chiaramente per chi conosce perfettamente l'inglese sa che la l è sinistra e la r è destra però vedete monterebbe anche così ma la r è al contrario la vedete la lettera così come se io metto questa di qua la l è al contrario quindi ovviamente va girato sia perché è molto più semplice spiegato nel fascicolo ma per chi nutrisse dubbi in merito sappiate che è così allora e mettiamo le due viti dalla parte dall'altra bm adesso prima vedete sempre i sacchetti ragazzi perché sennò le mischiate vabbè che non sono solo tre serie diverse ve ne accorgete se le mischiate adesso andiamo solo a vedere se è il caso di passare anche queste prima quanto si avvitano questo non serve ragazzi perché perché va imbattuta sulla plastica quindi non serve cioè nel senso non è imbattuta sulla plastica c'è già il ferro qui vedete quindi io provo a vitarne una e vi dico se serve abbiate pazienza beh ragazzi io la smonto e lo rifaccio di nuovo abbiate pazienza adesso metto la pausa ma io lo faccio e vi consiglio di farlo anche voi perché rompere questi pezzi è un attimo se montati correttamente non ne rompete nemmeno uno allora scusate ragazzi faccio la stessa cosa adesso mi avvito tutte le quattro viti bm una due tre e quattro e poi faccio ripartire il video a dopo ragazzi eccoci no qua ragazzi allora ricordatevi sempre ricordatevi sempre di non fare leva su questa griglia tenete sempre il pezzo così non appoggiate mai per nessuna ragione quale dita perché lo rompete ragazzi eh ok allora torniamo a noi mettiamo questo che terrà poi all'interno la lampadina dei fendinebbia io le ho passate tutte quattro metteteci un goccio di olio di grasso nella vite basta solo una volta e le passate tutti quattro fuori con la stessa vite fatelo ragazzi fatelo perché vi serve guardate c'è il suo discorso di prima guardate come si avvita vedete guardate come si è avvitato guardate sono arrivato vedete non si muove più non sforzo perché ho capito che sono arrivato in battuta perché incontro la resistenza la resistenza della battuta tra il ferro e la plastica che non vi rendete conto se non passate le viti le potete rompere tutte le plastiche così comunque ragazzi vedete voi ok questo è perfetto scusate ragazzi se magari non inquadro molto bene quando faccio questo lavoro ma insomma ormai vi ho detto questo pezzo come va montato quali sono i consigli che io mi sono sentito di darvi e quindi ecco tutto qua non c'è altro da dire su questo perfetto arrivo e faccio un piccolo colpetto all'indietro leggero leggero arrivo in battuta leggero leggero questo farà sì che non faccio non metto troppo sotto il stress la plastica così ecco controllo perfettamente fisso questo balla un po e allora un altro colpetto perfetto controlliamo che le plastiche attenzione alla cromatura perché deve andare perfettamente dentro il fin di nebbia ragazzi questo la plastica trasparente deve incastrare la plastica cromata all'interno è ok se non fosse se non fosse andata a buon fine allentate un po questa vita è qui e giocate con le plastiche ok comunque così è perfetto allora siamo a questo livello qua poi ci dice incastriamo i vetri del gruppo luci sinistro 1m nel lato interno del corrispettivo alloggiamento 1k i pezzi corretti sono individuabili per le scritte l evidenziati qui sopra dai cerchi azzurri ok quindi andiamo a vedere questo infatti R e L che questo è tutto plastica cromata poi abbiamo questo non ci si può sbagliare vedete questo è anche R e questo è L ok allora l'unico cosa voglio solo vedere che voglio solo vedere è questa allora niente andiamo non voglio vedere niente perché ho visto che c'è anche quest'altro qua da prendere ovviamente allora fermiamoci qua prima scusate ragazzi è tutto in diretta qua allora R ecco qua quindi R lo mettiamo con R e lo mettiamo con R ok individuate tutte le R vi consiglio e ovviamente per esclusione questi sono tutti L perfetto la L sapete che abbiamo detto che è di qua ok quindi adesso ci dice di montare tutto L andiamo a prendere questo allora ecco attenzione ragazzi non vi potete sbagliare vedete perché uno può avere i dubbi di che lo metto così o così e c'è una bella differenza lo dovete mettere così perché la L la vedete quindi deve essere verso il vostro viso la lettera ok non vi potete sbagliare poi prendiamo anche questo che è l'altro L e andiamo a metterlo semplicemente all'interno allora perfetto non vi potete sbagliare neanche qui perché c'è solo un modo per poterlo posizionare vedete se lo mettete da questo lato non va bene dovete perché non non entra nel foro nel perno questo forellino qui chiedo scusa questo forellino qui non so se si vede con il fondo bianco comunque c'è un forellino deve entrare in questo perno qua quindi vedete così entra ma se lo metto così non entra e meno male perché così non ci possiamo assolutamente